Mi chiamo Andrea Incerti Rezzani, sono originario di Reggio Emilia e il locale che ho e che gestisco è il ristorante Locanda a Camatilde. La strada che stiamo percorrendo già da 4-5 anni è proprio quella di cercare di costruire come un abito il menù in base al tipo di cliente. Il fatto di poter fare prove su quello che sono anche i prodotti del territorio, ma non solo, mi dà la possibilità di giocare e di creare. Al giorno d'oggi il cuoco deve essere una persona che comunque ha conoscenza. Se io acquisto una materia prima incredibile e non la so conservare e non la so cuocere, vado a rovinarla. Per questo l'abbattimento mi serve organizzare quella che è un po' la produzione data da una bassa riprenditura del prodotto, per cui hai bisogno di attrezzatura di tenere la possibilità di acquistare il prodotto quando ce n'è e di conservarlo nel modo migliore. Secondo me non c'è nessun altro che fa quello che fa i rinox, cioè non è una macchina che fa solo freddo, è una macchina che può essere utilizzata per fare levitazioni, per fare cotture, per fare mantenimento. Ha una complessità dietro notevole, però da un punto di vista dell'utilizzo è molto semplice, perché la macchina ti dà tante indicazioni su quelli che sono i passaggi che devi fare, per cui puoi selezionare dal tipo di abbattimento al tipo di alimento che devi inserire, alla modalità proprio di conservazione. La freschezza di un prodotto è data proprio dalla modalità in cui viene abbattuta, per cui la cosa fondamentale, la cosa più difficile è proprio sia in cottura che in conservazione salvaguardare questo per dare la qualità massima da un punto di vista anche della digestione. Uno dei complimenti più belli che spesso mi sento fare è quello di avere una cucina che al tempo stesso è cucinata, perché ritengo che cucinare voglia anche di dire passare delle ore in cucina a cucinare, però al tempo stesso una cucina più digeribile e una cucina che non infastidisce quello che è poi il post pranzo o il post cena.